via pompeo morganti è una strada ora solo ciclo pedonale di raccordo che mette in comunicazione il quartiere della paleotta con via della giustizia nel tratto finale e sbuca a pochi passi dal cimitero centrale è un bel taglio che consente di abbreviare soprattutto per chi va a piedi chi si reca in centro passando per via della liscia il problema che molti residenti però ci hanno segnalato è che questa strada sembra essere figlia di un dio minore essendo nel tratto finale di un centinaio di metri quasi completamente inghiottita dalla vegetazione spontanea che ha invaso buona parte della carreggiata lasciando libero campo e come facile immaginare a topi e altre specie striscianti soprattutto nelle ore serali e se a questo aggiungiamo che è totalmente al buio possiamo ben capire che per i residenti non è molto piacevole percorrerla a questo aggiungiamo cosa non da poco l'opera dell'uomo che spesso in questi casi si aggiunge peggiorando ulteriormente le cose facendola diventare complice appunto vegetazione ed oscurità un bel posto dove scaricare indefessamente rifiuti di ogni tipo sia domestici indifferenziati che di altro genere per il campionario presente vi lasciamo ampia libertà di fantasia ora non è che il pezzo di via della giustizia verso via della liscia sia proprio l'astricato di marmorosa anzi anche lì presto se aset non interviene sulla curva ci ritroveremo con rovi che hanno guadagnato metri su metri ma almeno lì lo spazio di espansione c'è come pure l'illuminazione ma non è che si può tanto dormire sugli allori ora i cittadini non chiedono altro che questa piccola ma utilissima e frequentatissima strada secondaria un po messa ai margini in passato venga presa presto in considerazione per i prossimi sfalci a beneficio del popoloso quartiere della paleotta